Allora per chi si fosse connesso adesso il d'accante che vedete è Andrea Casiraghi che è uno dei migliori se non il miglior no anzi il miglior d'accante italiano e ci sta sfaltando a tutti quanti Quindi se volete potete provare a sfidarlo se riuscite ad entrare nella stanza che però purtroppo adesso è piena e è una bella opportunità Livello altissimo ragazzi Piero Togli la stock Togli la stock non l'ho vista ma l'ho persa Allora Luigi dici se Andrea ha mai giocato con Piero? Non so chi sia però chiedono qua dalla La guarda è al baratto Eh però diciamo che piano piano Vabbè è normale pure che Vabbè è che la prima volta Sì a parte quello ma comunque la prima volta che ci combatti contro non è facile Anche perché d'accante a un matchup che non viene utilizzato spesso quindi non è semplicissimo da affrontare la prima volta Soprattutto se uno poi così esperto Bene bene ragazzi dai dai che voglio vedere se qualcuno riesce a batterlo Adesso sono triggerato Sto tutto carico con la scuola Eh snake non è snake proprio come usa snake Ragazzi snake non è proprio snake come usa snake È snake cromo in chat quindi penso di sì Snake è forte Eh lui è forte sì sì Attenzione questo è un bel match Uno Via Perfetto Eh l'aveva piazzata attenzione Un match pieno Eh di No ce l'ha visto che gli ha fatto Ecco snake con la sua up smash Sta giocando molto bene con le mine Ha lasciato una granata Attenzione sta per fare entrare granata Più up smash E rischia di togliere la stock Ecco che copre le opzioni rientro Posizionando sapientemente Questo stage lo aiuta Ecco la Eccola eccola Mamma mia Snake è giocato così Aia Grandissimo snake Attenzione Attenzione Vabbè Pareggia subito Andrea Eh però lo aggredisce Soprattutto In lontananza gli può coprire Gli può coprire tanto spazio Capito Perché ti ritrovi le bombe ovunque Per magari la lasciate prima E quindi sei costretto ad avvicinarti Ma con d'accanto avvicinarsi non è proprio Cioè snake se hai giocato bene Ti costringe ad andare dove vuole che tu Vada Eh però copre bene con l'up smash Attenzione Che gli ha sparato Comunque ragazzi è proprio difficile capire Quali sono i proiettili Ed ecco un muro di up smash Ignorantissimo Snake Uh porta tutti quanti verso l'ultima Stock dell'incontro Incontro tiratissimo Serratissimo Bellissimo Aggiungerei Porca miseria ragazzi Sembra capodanno Esatto Guarda come ha coperto La piattaforma Ha preso con la mina Attenzione Andrea In netta difficoltà Snake sembra poter Portarsi a casa il match Mamma mia Spice finale di Andrea Grandissimo Questo ragazzi Cleppate subito Questo incontro Una chiusura fantastica Come ha ricoprato L'ultima stock Eh lo so Buon rat Sì Non sarà un gran che Però ha giocato così È proprio impressionante Oh Ha ucciso Non ho messo Sì Tutto bene Non ce lo so fare Da un po' Con il tacco Col back air Eh ma La spike E pareggia 0% Due stock A testa E Buon rat Non è in chat Ma c'è Luigi Che riferisce per lui Sì Se non Followate Followatemi Ok un po' Comunque si sta facendo valere Il nostro amico Catafratta Che però Attenzione Chiude con No non chiude Non si arrende Per un po' Via non si arrende Ci rimane malissimo Andrea Attenzione Rischio Rischio Non dovrebbe sottolotare L'avversario Intanto è arrivato Però E chiude Chiude E così Abbiamo un abitante Contro d'accanto Il match Il match Del fastidio Ed è C'è anche Romoletto Ragazzi Rocks Per gli amici Solo Ciao Catafratta Grazie mille Ottimo match Ti sei fatto valere È stato un piacere Alla prossima Il mercoledì Siamo sempre qua Con le live Vai vai Riprova Riprova Non 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 ne lo so Mattivo Fa parte Di smash Bross Italia Perché Magari Mi sbaglio Ma mi sembra Molto il tipo Che aveva commentato Il torneo Di lancio Smash Ultimate Assieme A Cidonia Ah Grande Nabot Vuoi giocare Questo scontro Durerà 4 ore Esatto Con le opzioni Recovery Del villager Non c'è Da scherzare Ma prima Donkey Kong Stava anche in vantaggio Come cazzo ha fatto A perdere Oh madonna Quanta potenza Quel side smash Quel side smash È pazzesimo Io non sono mai riuscito A farlo entrare In tutta la mia vita Che ho d'accanto Ci ho provato A giocare Fatemi giocare a smash E chiude L'incontro Andrea Contro Nick Ci metteresti la mano Sul fuoco Che è Nugget No no Best gamer No ho detto Una cazzata No Ma perché aveva detto Che tipo non ce l'aveva Smash Ho avuto Scusate Scusate Ho creato un crossover Un panico che non c'era Senti ma allora Discutiamo seriamente Della prospettiva Imprenditoriale Di creare Un brand Figli di Pups Dobbiamo brandizzare Qualche logo Qualche logo Dobbiamo brandizzare E intanto Prende una stock In un modo Super intelligente Secondo me Ti conviene fare Bubble Il problema È una lavagna elettronica Una lavagna elettronica Non so Non so Che stanno dicendo Allora Esatto Poi è sempre full Allora Il logo L'ho fatto io Scusate Dove avere questo momento Diego Lui è Lanca Ah ciao Con Emilio Quindi sei Lanca Comunque se volete Le magliette Quelle faccio io Però diventerebbe un bordello Sì è vero Però Però entra più gente A fare spettatore Almeno 8 Dai È proprio È proprio Un numero stupido Un numero scemo E prende una stock Javi Games Non se ne va Mani vuote Contro Andrea Bonera the legend Manco ci provo A entrare Sto col wifi Della casa dello studente Allora sei un poraccio Tu sei un poraccio Inside Ti meriti la prima maglietta La prima maglietta gratis No No Un prezzo speciale Di 19,90 Un prezzo speciale Invece di 25 Facciamo 24,99 Fino adesso È NER No è quello che gira pure dietro Non l'ha fatto L'ha fatto Ah quello è NER O è DER No 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 Cazzo con questi spadaccini Va a caccia Va a caccia Se ci riesci Linkagli sto discord subito Perché sennò Poi ti si dimentica Il discord Bonera the legend Il discord dei poracci È molto frequentato E si gioca Apparentemente tutte le serie C'è sempre qualcuno Che gioca C'è un problema Alla mano Che Aspetta Che è Punto Giord Ho perso Perché mi sei rotta la mano Oppure ho perso Perché Best luigi in italia Versus best Due d'accanto in italia Ragazzi A questa Ma dove Riccate Glippatela subito Glippatela Glippatela Perché È un'occasione Più unica Che rara Dai Fai qualcosa È buono Non sei capace Guarda che lui Soffre Soffre la pressione Guarda come si gioca Stra quel Parattolo Scandaloso Scandaloso Oh Per long Via Prende gli schiaffi Dal best Giord'accanto Ma che pippa che sei E' tazzito Tassi a caso Dai No Tu vuoi fare il perché Ho fatto pure la Di Bello Ed è il miglior Luigi di Italia Il miglior Luigi di Italia Però non ha settato bene i comandi Quindi No Hai visto L'ho visto che è successo È successo È una cosa strana Un bug raro Buuuu Ci sa Mi pare I soldi No Vai 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 Succidati Succidati No Gli ha feitato No Questo è un bug Chiamate samurai Chiamate samurai Chiamate samurai Chiamate samurai Ultimo samurai Cialcuno chiami samurai Ragazzi No Io sono Non so Sono fuori Fuori allenamento Quello 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 Metti Quello Classico Quello ce l'hanno quasi tutti Ovviamente Quelli che c'hanno Donazione Pure Puri con di porno Pure con di porno Tante ne sa Sì alto E fa il vero test Figli di pups Sì 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 In generale Va a contatto Con il nemico Allora guarda Si è andato Una bo Però vedi Mi fa rosicare Che qua Non aggiorna Le tip No Non c'è il new tip Devi fixare il new tip Questo è un altro compito Che c'hai Devi fixare il new tip Perché non va Non ha mai andato E poi il top tip Cos'è l'accumulo De tip Non c'ha senso Manco quello In realtà Vorrebbe essere Così Ammazza Che è successo Ha giocato Ha giocato Come ha fatto Che paura Che paura Che paura Che paura Che paura Che cosa Ma che c'è Una combo di tasti Per girarlo Il problema Il baratto Per il troppo Lio vantaggio Questa è È recuperabile A questo punto Ho cercato Parchi giù Tanto Sono arrivato Da lontano Ho camminato Un botto Per Attenzione Vediamo se chiude Shulk Ha seri problemi A rientrare Con un duo D'accanto Così aggressivo Catafract Gerard È top Abbonamento Affami Ho scelto Rispetto A Twitch Mi è entrata Una serie De gonfolo Rispetto A Amurant Dove scegliere Oh Spike Non discordatevi Di unirvi A discord E chi è Madonna Box Figlio di Fax Figlio di Fax Figlio di Fax La donazione In diretta Un centimetro Cono giorno Giovanna Niwaiu Megaru Cos'è Giorgio Cono giorno Giovanna Niwaiu Giorgio Romolo Parla Giappone Ragazzi Se non si Posso Cosa Cosa Significa Però Che Wariu Non so Così Di lotta Generazionale E poi ci stanno Sempre Nuove Generazioni Oh Hai visto Che Bello La Fax Di La Guerra Nucleare Tutti Non sono più Non sono più Non sono concentrato Ma che fai? Diciamo Come fate voi Ma che fai? Sta provando a farmi giocare Secondo me Perché Se non voleva farmi giocare Non mi faceva giocare No 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 Guarda Secondo me Non ti conosce Ma porca Caccio Ma che Che knockback C'ha quello Io mi ricordo A smash 4 Non c'ha nessun knockback Del pistolero Wow Ma fa pure Il moonwalk Questo gatto Di barattolo Perché il barattolo Io volevi Sì Sì De lo sposto Mannaggia Zitti Cioè Non mi fate parlare Perché Mi distrago Se parlo Aia 34 Mancosa Mannaggia Ma 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 Porco Del Demonio Siamo Carbi Siamo Sempre I Lips Dalla Giù Ma Che Bucio Questo E Culo Ragazzi La Se il mio Culo Ma Ma Pure Ma Pure Sionnato La Presa L'ho Fatta La Presa Ma Me La Sionnata Annaia Tua Muori Ma Non Gli ho Fatto Niente Ho Levato Il Cappello Al Pelato Ma Che Cazza Rola Il Pistolero C'ha Un Knockback Tauroso No 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 L'ho pure Mezza Fatta Quello Mi ammazzava Mi sa 73 Ma Ammazzava Il bariletto Mamma mia Se me piava Mi ammazzava Tranquillo Che No No Era l'ultima Era l'ultima Pensavo di averne due Incredibile Spero di imparare qualcosa Nel match Che farò sul discord Contro I profili Grande lanca No Sta bene con se stesso Ma questo è stato Un refletto È fatto a Bragata Il refletto È veramente bellissimo Come l'ha fatto esplodere Ha tirato fuori Ha tirato fuori Il barilere all'istante In quel momento Stava tirando fuori Farsi Che deve fare Ammissi Si Vendrà Come Explosive Fire Molto potente Però Devi mirarlo bene Ma non ti dà tempo Sì E poi gli canterà Tutti quanti Oh Backthrow Backthrow Attenzione Il vantaggio Il prima La prima volta Mi sa che vedo Il vantaggio Mi ha fatto poco Levati Questo è stato bellissimo Il recupero Durante lo smash Ma hai visto Che il knockback Che c'ha Quel cacchio Del pistolero 150 Gli è dato Un bel po' Il tempo Per accumulare Qualche danno Eh Però adesso Si ha fatto Adesso Stanno Qua Stanno Vantaggi Ma Secondo Che Chi prende Prima Questo Stock Ecco Fatto Ecco Attenzione Ragazzi Attenzione Che bomba Che bomba Che bomba Corbisci No Aumentate Danno Ma come funziona E perché ha dato Una bomba Ardona Alla Swax Attenzione No Faglia la palla Quella Fluttuante No perché Da con Con la Smash Lo facevo Guarda Con lo sta Inseguendo No Ma lì era da schiva da Provo era da schiva da facile Arrivato Io sorrivo era un ballerino Di pochissimo Bellissimissimo Lo ammazzava col pistolero Se lo piava Infatti devi scappare la pistolera Ah No No Press F To pay respects For Palutena Press Everybody Press F Pay your respects Respect Grazie mille Luigi Grazie mille Andrea Stato veramente figo Grazie Grazie Però speriamo che non sia Una cosa così Di passaggio Invece Divertente Come cosa